Vedi la luna crescente? È il momento giusto. E il momento giusto per cosa? Sono bellissime, Eva. Ora sei qui con noi, ti farai nuovi amici, no? Amici migliori. Pronto? Io conosco tutti in televisione, però devi capire che ci sono tante bellissime ragazze e molte delle quali sono disposte a fare di tutto. C'è tanta concorrenza, Eva, e c'è sempre un prezzo da pagare. Non c'è una cosa che vada dritta da quando sono qui. Ci vuole un po' di tempo per ambientarsi. Dobbiamo andare in un posto insieme. Che posto? Niente domande. Buonasera, signora Eroldi. Giacomo. Vogliono riaffermare i diritti delle donne, apparentemente. Voglio farti urlare come non ho mai. Lo fanno attraverso la magia nera. E ogni genere di magia, alla fine, conduce sempre al mare.